buongiorno compagni di viaggio in questo video vi parlerò dei miei libri molto spesso sono portato a parlare di altri libri quasi come avessi un pudore nel parlare dei miei in effetti sì è la verità preferisco farvi conoscere libri che per me rappresentano momenti fondamentali di apprendimento che mi hanno stimolato in maniera veramente significativa che hanno parlato al mio cuore alla mia anima però nell'ambito di questa diciamo rubrica di psicologia eliocentrica ho deciso anche di accennarvi alle cose che ho scritto i libri che ho scritto devo dire che fondamentalmente li ho scritti per me stesso devo essere sincero ognuno di essi rappresenta un momento di chiarezza scrivendoli chiarivo a me stesso tutto il processo graduale di trasformazione di conoscenza anche di pratica meditativa e quindi era un modo per fare un consuntivo della mia vita stessa e ad un certo punto il primo libro che è stato pubblicato da anima da anima edizioni in una prima ristampa prima stampa del 2007 è un libro che ho amato molto la ricerca dell'amore la ricerca dell'amore è un libro fondamentalmente autobiografico ripercorro un po' tutta la mia vita per descrivere come gradualmente sono arrivato a a formulare certe così certe diciamo idee ecco certe sintesi piccole sintesi che si sono formate nel nel nell'ambito della mia esperienza quotidiana anno dopo dopo anno ma anche ho cercato di esprimere in questo libro che cosa mi anima veramente ecco perché la ricerca dell'amore in fondo la ricerca dell'amore la ricerca che ognuno di noi conduce magari anche inconsapevolmente spesso in maniera sbagliata però tutti noi tendiamo all'amore e quindi in questo libro inizio descrivendo l'infanzia di un personaggio che ho chiamato Auro e questo personaggio in effetti sono io come poi si chiarirà nell'arco delle pagine successive e voglio leggervi una piccola prefazione che ho fatto in cui spiego anche un po' il disagio iniziale per anni ho avuto il desiderio di scrivere un libro di psicologia olistica ma ogni volta che mi accingevo a scriverlo non riuscivo ad andare oltre il primo capitolo credo di avere tentato una decina di volte senza risultato eppure avevo delle cose da dire che mi sarebbe piaciuto condividere finalmente ho capito qual era l'intoppo mi proponevo di fare un libro scientifico con la preoccupazione di essere credibile e di costruire una teoria epistemologicamente ben congegnata ma io non sono così non sono propenso a formulare un sistema logico e a mantenermi freddo e razionale alla fine ho abbandonato l'idea del libro scientifico e mi sono divertito moltissimo a scrivere un condensato di riflessioni di autobiografia, di intuizioni senza preoccuparmi del giudizio degli altri ma soprattutto del mio censore interno che ancora resiste ai miei numerosi attacchi ecco in questo libro quindi ho cercato di parlare di me nel modo più sincero possibile e come sono arrivato a formulare la mia sintesi tra la psicologia e la ricerca interiore e quindi la meditazione, le filosofie orientali e soprattutto l'incontro con Sri Aurobindo partendo da Wilhelm Reich infatti il sottotitolo del libro è Un ponte tra Reich e Sri Aurobindo poi è uscito un altro libro che mi è veramente anch'esso molto caro Il guerriero interiore In realtà questo libro l'ho scritto prima della ricerca dell'amore era un periodo molto travagliato della mia vita siamo negli anni più o meno 2000 e per direi chiarirmi le idee per farmi anche coraggio cominciai a scrivere così come delle piccole pagine delle piccole pagine molto spontanee sulla figura del guerriero un archetipo che mi ha sempre affascinato il guerriero interiore quindi il guerriero che è alle prese con la sua battaglia interna non è certo Conan il Barbaro per intendersi è un guerriero che affronta il drago che è la propria ombra e sono degli aforismi 108 aforismi che ho visto che sono piaciuti tanto ai giovani soprattutto ai ragazzi tanto che questo libricino è stato usato tempo fa in un liceo come il libro di testo e questa cosa mi ha anche molto meravigliata devo dire sorpresa leggerò l'aforisma 46 anzi no il 45 il 45 la consapevolezza del guerriero è come un faro più potente diventa la sua luce più illumina in profondità la notte cosa si nasconde nell'ombra? questa è la domanda che si pone continuamente e così vaga con la sua torcia per snidare tutte le vibrazioni ignoranti le incrostazioni gli impulsi ciechi quando d'improvviso si illumina una cantina si snidano gli insetti che vivono protetti dal buio non è uno spettacolo piacevole ma è necessario per fare pulizia più alta è la vetta più profondo è l'abisso per questo il guerriero fa emergere ciò che il profano non immagina nemmeno di avere in sé è uno speleologo che si infila nei cuniculi più stretti ed esplora ogni anfratto ed ogni cavità non si lascia sfuggire niente il guerriero si confronta con la sua ombra invocando la luce bene non avevo nessuna intenzione di pubblicare questo libricino è stato un caso è stato un caso in quanto anima edizioni nella figura di Jonathan ha visto questo file non mi ricordo nemmeno come è accaduto precisamente ha voluto vedere cosa c'era in questo file e è piaciuto evidentemente a Jonathan questa serie di aforismi e mi ha proposto di pubblicarlo e quindi come a grande gioia questo libricino proprio piccolo ecco ha avuto la luce poi successivamente il terzo libro è educazione alla ricerca interiore educazione alla ricerca interiore è già un po' più specifico da tutto il viaggio che racconto nel primo volume la ricerca dell'amore in questo libro invece cerco di indicare un percorso possibile un percorso possibile per chi desideri incamminarsi in questa ricerca di se stesso in questa conoscenza di sé sono delle indicazioni ovviamente di un percorso che è soltanto un suggerimento tutte le cose che io scrivo che dico vogliono essere veramente soltanto dei suggerimenti sono il primo a sapere quanto cammino ancora devo fare le lacune che mi appartengono e quindi cerco veramente di non pormi in una posizione di chi ha la verità non ho nessuna verità ho delle esperienze e quindi le metto a disposizione di chi è interessato anche perché è fondamentale condividere quelle cose belle che uno crede di avere dentro di sé di avere scoperto è una gioia poterle condividere poterle far conoscere perché magari possono essere utili a qualcuno e già per me questo è una grande gioia il quarto libro che è uscito è un altro libricino piccolo veramente piccolo piccolo che io adoro sono 99 pagine Wilhelm Reich Wilhelm Reich dall'energia vitale alla spiritualità naturale è il mio atto d'amore per Reich in cui prendo spunto dall'assassinio di Cristo per fare delle considerazioni su quello che considero veramente un essere geniale un essere che non accettava nessun compromesso che ha pagato molto amaramente il suo desiderio di autentica libertà Reich è morto in carcere per un attacco cardiaco così si dice è rimasto in fondo un mistero i suoi libri furono arsi veramente un vero e proprio rogo alla Giordano Bruno è stato quindi un guerriero molto coraggioso ha pagato con la vita le sue idee molto avanti nel tempo Reich si è occupato di tanti campi ha esplorato la biologia la sociologia la psicologia ha creato l'orgonomia veramente la scienza dell'energia vitale orgone da energia dell'organismo ho un'ammirazione incredibile per questo grande essere e ha detto molte cose che spiegano quello che sta succedendo in questo periodo storico in un libro secondo me fondamentale per chi ama la psicosociologia direi che è psicologia di massa del fascismo in cui fa vedere che il fascismo è qualcosa che abbiamo dentro di noi è la nostra peste emozionale e non importa se sia un fascismo rosso o un fascismo nero è un modo di essere è una vera e propria malattia è una biopatia è il tumore di tutto il nostro sistema vitale e lo stiamo vedendo risorgere in questo periodo storico attraverso una cattiveria un'intransigenza una violenza una meschinità di tutti contro tutti e concludo con il quinto libro è un libro molto molto particolare sono caduti un libro molto particolare perché è questo libro confessioni di un mediocre guerriero è è uno zibaldone infatti ho scritto sotto il titolo zibaldone di attualità psicologia poesia e spiritualità qui ci sono tutte le annotazioni che negli anni ho scritto i spunti piccoli pensieri è un po' un diario e sì c'è anche la poesia ho scritto alcune poesie in realtà ho cominciato a scrivere poesie da quando ero proprio adolescente ma chi di noi non ha scritto delle poesie sono certo che molti hanno il pudore di ammetterlo sono momenti di di sincerità momenti in cui briciole d'anima attraverso delle parole che nascono dal cuore vengono messi in versi non c'è grande pretesa non sono un grande un grande poeta questo ve lo dico assolutamente però anche certe poesie possono essere un modo per comunicare una parte di sé che non si riesce a dire attraverso le parole più comuni è una poesia che ho qui davanti la prendo a caso veramente è una piccola poesia in cui parlo di qualcosa che sta accadendo nel 2022 nel 2021 in questi due anni in cui l'oscurità si manifesta in tutte le sue forme più orrende in cui si sta decidendo il destino dell'essere umano vi leggo quindi questa piccola poesia rendimi schiavo e mantienimi tale diceva implorando il piccolo uomo dammi un recinto che sia bene arredato cosparso di giochi e fiori di plastica il diavolo sorridendo benevolo esaudì ogni suo desiderio bene devo dire che questo video mi è costato più fatica degli altri però ve lo consegno con affetto vi auguro ogni bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti